Dai, vai. No, no, con le registrazioni. Lascialo, lascialo. No, è registrato. Marco. Sei registrato? Dai, Marco. Eh? Dai, Marco, parlaci un po' della tua vita. Giudizio della gita, giudizio della gita. Com'è sta gita? Come è stato, secondo te? La Repubblica Ceca gli do due. Perché? 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 No, vai, per le nazioni. Perché due? La Repubblica Ceca ha due. No, non c'è. Signore, impalpabile. Impalpabile. Dovevamo vedere il cerchio che non l'abbiamo visto. Dopo quale? Ma l'ho conosciuto. È la fortezza dello Spielberg. No, guarda. Non ho parole. Poi, Polonia. Polonia. Polonia, sono state belle le minieri di sole che non siete andati. Bene, Auschwitz, bello. Auschwitz. Ah, importante, interessante. Cracovia. Cracovia. Cracau. Ah, io a Cracovia mi sono divertito così. Ah, io a Cracovia. Quindi, voto? Voto? Voto. Gli do sette pieni. Sette pieni. No, no. Austria. Tappa. Austria non abbiamo fatto niente. Dai, dai, Marco. Austria. Salzburg. Gli do cinque. Salisburgo. Cinque. Cinque. Cinque perché? Cinque. Perché? Perché non abbiamo fatto niente. Poteva anche avere di più. Ok, dai, Marco. Ok. Bene, bene, bene. Bene, bene. Bene, bene.